SIGLA Ma lo vuoi capire che abbiamo finito i soldi? C'è l'assicurazione della macchina, la banca, le bollette, l'università di Carlotta, la corrente... Non paghiamo da quattro mesi! Non abbiamo neanche più soldi per mangiare, lo capisci sì o no? Domani? Ma sono passati solo due giorni, e io ancora? Oi, sì, sono io. No, non è andata come pensavo. Che lo so, ho capito che sono fuori allenamento, ma non ho scelta. Insomma, io vorrei aiutarti il papà, ma non so veramente come fare. Non ti preoccupare, si sistemerà tutto, vedrai. Oh, ma non ho detto che ve l'ha sfondato questi strunti stasera? Sì, non ci posso vedere, sono salvo. Giustizia è fatta, ma ve le restituirò tutti i 30.000 euro? 30? 60.000? Come 60.000? A me ne avete prestati 30.000? Ma che sei nato ieri? Dopo tutta la pazienza, dimentichi gli interessi per la cortesia. Dicono di andare la sera, certosa. Oggi. Non andarci, ti prego. Un brutto presentimento. Ho tirato il salvo una volta, te lo prometto. Te lo prometto. Ho tirato il salvo una volta, te lo prometto.